Il Fondo Edifici di Culto è un tesoro della nostra Repubblica, 840 chiese bellissime sparse in tutto il territorio nazionale che ospitano sculture e dipinti di inestimabile valore. E' un tesoro che noi vogliamo portare il più vicino possibile ai nostri concittadini, lo facciamo anche con il calendario del FEC, del Fondo Edifici di Culto, che quest'anno inaugura anche una collaborazione con il gruppo Ferrovie dello Stato che esporrà tutte le immagini del calendario nelle sue stazioni, sui treni Frecciarossa, nelle sale Frecciarossa e che darà la possibilità quindi a tutti i nostri concittadini di entrare in contatto più ravvicinato con quella che è la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura, quello che noi italiani siamo e quello che ci fa riconoscere come italiani in tutto il mondo. E' un'opera di cui siamo particolarmente orgogliosi che davvero io penso potrà fare la differenza e portare ancora più vicino a tutti noi quello che è il nostro patrimonio culturale, che è il nostro presente ma anche il nostro futuro.